Ciao ragazzi, guardate cosa riesco a fare con un semplice gioco allegorico, tipo la barzelletta, vedi? Oh, allora, la barzelletta. Dunque, gruppo di amici che in un pomeriggio non sanno che cosa fare, pomeriggio d'estate caldissimo, non sanno cosa fare. Oh ragazzi, cosa facciamo? Non c'è niente, siamo in una città, non c'è il mare, che mi sta annoiando da morire, da morire, poi oh ragazzi, il sbattimento è mollato. Passano e vedono l'ippodromo, raga c'è l'ippodromo, scalinate, ci collassiamo lì anche perché io camminare non ho più voglia, buttiamoci sugli scaloni dell'ippodromo e c'è, e vanno agli scaloni dell'ippodromo, finisce la prima parte. Arrivano sugli scaloni dell'ippodromo, si siedono tutti lì ma dopo mezz'ora si iniziano annoiare lo stesso. Ragazzi, cosa facciamo? Cosa non facciamo? Dicono, voi quanto avete? Io raga, c'ho 2 euro, se non ho 2 euro, 3 euro. Allora facciamo una cosa, scommettiamo su 2 cavalli, non sarà il massimo della vita, ma per stare qua, almeno ci passiamo un'ora, proviamo a vivere l'evento. Va bene, va bene, va bene. Allora vado, vado, un tipo va verso il... va, scommettiamo sul set, scommettiamo sul set, dai set, intanto uno va nell'arco. E vanno, e vanno. Ciao raga, ciao a tutti. Ciao lì, ciao Babana. Ciao lì, ciao Babana. Ciao lì, ciao lì, ciao lì. Ciao lì, ciao lì. Ciao lì, ciao. Vai, continua. Allora, niente, quanto avete? Dai, abbiamo 6 euro in tutto, cosa facciamo? Andiamo a scommettervi un numero, 8, proprio scazzati. Uno va dei tre per scommettere sul cavallo, però vede i cavalli che arrivano incontro per andare allo schieramento di partenza e un cavallo gli fa. Questo si ferma, ci pensa un attimo, torna indietro e va dagli amici e dice hai scommesso? No raga, non l'ho scommesso, ma vi devo spiegare questa cosa qua. Mentre andavo a scommettere e mi è venuto incontro un cavallo che sta per correre e mi ha fatto tutto. Ora, può essere che io mi sia sbagliato, però mi sembra un chiaro segno del destino. Ma non dire cazzate, ci sarei sbagliato il sole, il caldo. Facciamo una roba raga, andiamo tutti e tre e andiamo a vedere se sto dicendo una cazzata, ho preso un colpo di sole o effettivamente il cavallo mi ha fatto così. Allora vanno tutti e tre e gli dice, eccolo là il cavallo. Guardano il cavallo, il cavallo li vede e si gira e gli vanno. L'avete visto anche voi? L'abbiamo visto anche noi sì. Miche, che numero ha? 8. Andiamo a scommettere sull'8. Vanno e dicono, tutto sull'8. Vanno a ritirare e mettono tutto sull'8. Rivanno su sulle scadinate, parte la corsa numero 5, cavalli sul posto di partenza. Pronti prima che parta la corsa, il cavallo li riguarda ancora una volta e ci fa. Loro. Miche, e parte la corsa. E loro vai, vai, vai. Il cavallo passa, è un po' dietro, ma passa il primo giro dei tre giri. Il cavallo passa davanti alla loro ronda dove c'è la scalinata, li guarda e li va. E riparte. E loro sempre più esaltati. Vai, 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 vai. Perché vinciamo troppi soldi. Vai, vai, vai. Secondo giro, sempre più gasato. Il cavallo passa. Trum, 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 trum. Arrivano all'ultima curva, il cavallo è davanti, li guardano, guardano e davanti. Arriva, si avvicina un cavallo, mancano pochissimi metri, il cavallo lo supera e arriva secondo. I ragazzi disperati dicono no, minchia, ma mi giuro ragazzi che a me era sembrato così e escono dall'affare, escono dall'ippodromo. Uno dice, però raga, allora, o noi siamo scemi o il cavallo ha un chiaro segnale, ce l'ha dato. Andiamo a vedere se siamo scemi e voglio avere l'ultima controverifica. Rivanno verso il cavallo, il cavallo li vede, loro lo guardano, lo guardano bene e il cavallo ci fa. Il cavallo li capiva però, avendo perso le torte. Sì, dai, è chiaro. Ma ci credo? Ma ci credo? Si è fatto un viaggio, lui. No, scusami. Sì, sei quello. Era una barbelletta di mia moglie. Le risate bellissime, gli applausi. Era una bella barzelletta, era una storia, era un po' narrata. No, scusami. 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 Grazie a tutti